Una bellissima partita come spesso succede contro Bergamo, due squadre forti, un derby sempre sentito e sempre giocato al massimo da tutte e due le squadre. È stato anche secondo me un derby dal livello molto alto e dai contenuti tecnici molto alti, quindi si è visto un bello spettacolo. Mi dispiace per il risultato perché come spesso ci succede ce la giochiamo sempre con tutti e con tutto. Io sono convinto che prima o poi anche i risultati gireranno nel verso giusto. Sì, purtroppo un'andata più di ombre che di luci sotto l'aspetto dei risultati, ma quello che ci deve dare morale è il gruppo, è la squadra che non molla mai. Non abbiamo mai avuto dei grossi cedimenti, anche quando siamo stati sotto durante le partite abbiamo sempre giocato. Non abbiamo mai mollato, questo deve darci l'input per iniziare il girone di ritorno al meglio.